stavo guardando il mare alle mie spalle che il mare del molise perché siamo arrivati alla fine della nostra avventura della pista ciclabile abruzzese da nord a sud siamo partiti da mattin sicuro e siamo arrivati oggi a san salvo marina siamo già arrivati voi dite che fa presenti l'inizio luco contrario usci a luco contrario e vi consiglio di fare questa stessa esperienza che abbiamo fatto noi magari attrezzatevi perché non è proprio facile in tutti i punti come vedrete abbiamo trovato un grande fan del maestro unduccio essi oggi concludiamo il giro da nord a sud della costa ciclabile abruzzese ripartiamo da ortona bomba al miele che poi diventa sale gli altri due ci hanno abbandonato perché ci vuole uffese che ci vuole uffese che siamo arrivati al primo trabocco si nicola su dai affetto il fegatino per sabatino su dai affetto il capocollo per quando è mollo su dai affetto l'arrotolato per il pelato una lombata per la tua amata la fondina per la cugina la cacciotta per un'altra botta provolone per il milfone provolone per il milfone provolone per il milfone dai affetta compa dai affetta compa facevo la barba da 15 anni per fare l'elfo e oggi siamo qui a finire la pista ciclabile chi sei tu? dove siamo seriamente di preciso? io non lo so San Vito San Vito Chietino questo è quindi tipo no dobbiamo arrivare a basto ma veramente dai no 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 dai veramente io penso che non sia il caso di andare su rete hot guarda che mare guarda che posti ci avrei potuto portare una regina una contessa invece ho scelto te che noia mamma nha dai su mo comba mo va camma nha mo ti voglio mo ti voglio vabbè arrivati qui questa qui questa strada è senza colore di qua la strada è giusta? si si grazie tre secondi per mi chiedere io la provo chiudi l'ucchi e mi sento vabbè voi non chiedere lui ma questa è l'amazonia bellissimo però allora non mi sento proprio di cosa ma che cosa è? è incastrato un po' è incastrato un po' che traffico però quindi la strada sembra giusta giumangi giumangi vedo la luce fra ma sfatto vuoi provare il sorpasso? vai 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 madonna c'è c'è battagli c'è si torna si torna non si torna navigator dove siamo? a Termini che dice qua l'RCC? l'RCC l'RCC il radar cerca chi entra NON l'RCC non lo so non lo so non lo so me destra mi chi chi mi c'era? c'erano l'ho usato co l'ho l'ho do l'ho l'ho Stiamo finalmente per arrivare sul promontorio di Punta Terci Uno dei punti panoramici più belli di questo percorso Diciamo che tutte le fatiche nella giungla, sulla nazionale, a Francavilla Barranno la pena per questa vista Così Meraviglioso Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia Meraviglioso Meraviglioso Perfino il tuo dolore potrà apparire poi Meraviglioso Meraviglioso Ma guarda intorno a te Che doni ti hanno fatto Ti hanno inventato Il mare E poi niente Tu dici Non ho niente Ci ritroviamo in autostrada La vita L'amore Navigator Andiamo bene Meraviglioso La luce di un mattino L'abbraccio di un amico Il viso di un bambino Meraviglioso Cos'è quella statua laggiù? Meraviglioso Meraviglioso La squadra Se faccio uno squillo Se non mi quadro Se noto scompiglio A te in zona Nessuno ti caga Nessuno t'ha visto Ma di chi ci figli? Scendo dal gran sas In tasca un gran sas Tra sti monti Tengo duro Enduro Gran pass Tengo un profilo basso Perché faccio quello Che non posso Distarire Me te ne cago un lago Campo tosto Quello che c'ho accanto Che si gira Soddisfatto E dice guà che pista E qua c'è un comprensor E mo' campo felice Dalla brucia con un pacco di po' Siamo l'essenza Di sto cazzo I paid my dues Time after time Ribello Ribello I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shoes And kicked in my bed But I've come through And I need to go On 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 We are the champions My friends L'abbiamo fatta a bombe Stavo guardando il mare alle mie spalle Che è il mare del Molise Perché siamo arrivati alla fine Della nostra avventura Della pista ciclabile abruzzese Da nord a sud Siamo partiti da Martinsicuro E siamo arrivati oggi A San Salvo Marina È la mia ultima ripresa Quando spegneremo la telecamera Vorrei dire che L'esperienza estiva Per Reteotto sarà finita Ed è stata un'esperienza fantastica Concluderla così E... Non lo so Grazie a tutti Per averci guardato Spero il video vi sia piaciuto E vi consiglio di fare Questa stessa esperienza Che abbiamo fatto noi Magari attrezzatevi Perché Non è proprio facile In tutti i punti Come avete visto Abbraccio 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 Per Millei Vici al Nuovo Albatriatica Ma... Sono tornato ma... Oh... No basta Mi dico po' Vattene Vattene Vattene